Strutture che abbiamo ereditato dal passato e che saranno pronte ad accogliere le generazioni future. Sono le parole del sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, a definire l'importanza dell'intervento di riqualificazione avviato nelle case popolari di Via Matteotti, il primo finanziamento da fondi del PNRR ottenuto dal comune Riverasco. In questi giorni sono stati infatti posizionati i ponteggi che consentiranno entro settembre di completare l'opera. Questo intervento lo realizziamo attraverso ACER che è il soggetto attuatore, ha un valore economico di oltre un milione e consentirà di efficientare dal punto di vista energetico e migliorare dal punto di vista sismico 16 alloggi permettendoci tra l'altro di restituire a famiglie che ne hanno bisogno anche quelli al momento chiusi proprio per ragioni strutturali legate alle condizioni dell'edificio. Quindi è un intervento molto importante perché gli alloggi popolari sono un'eredità che ci arriva dal passato e grazie al piano nazionale di ripresa e resilienza potremo consegnare più belle e più sicure anche alle prossime generazioni. Questa è la dimostrazione concreta come le cifre che tante volte si leggono di fondi, di bandi, di stanziamenti. Qui dietro di noi c'è la dimostrazione di come si traducono in opere concrete che rispondono ai bisogni dei cittadini. Qui ci saranno 16 alloggi riqualificati, un intervento importantissimo soprattutto in un comune come Calendasco che rappresentano circa il 50% dell'offerta di edilizia residenziale pubblica. Acer è non solo soddisfatta ma anche orgogliosa di realizzare insieme al comune un intervento di questa portata che risponde ai bisogni dei cittadini e per noi di Acer la collaborazione con i comuni è alla base della nostra attività. Grazie a un finanziamento di circa 600.000 euro, 16 alloggi saranno riqualificati dal punto di vista antisismico e passeranno da una classe energetica G alla classe A1 con conseguente risparmi in bolletta per chi ci abita. E tre di questi, attualmente non utilizzabili a causa delle pesanti infiltrazioni d'acqua, saranno assegnati ad altrettante famiglie bisognose.